Quanto costa l'outfit di un bambino marocchino? Ben gioco, mi sei Però oggi capiti a fagiola, anche perché vorrei capire quanto costa il tuo outfit Prima di cominciare, secondo voi quanto costa? Ma guarda che posizione, guarda, guarda, guarda che attitude Capisci Certo che capisco Allora, le scarpe, quanto le hai pagate? Oro stamante Quanto, quanto? 20 euro Pensavo di più per delle scarpe che dovrebbero essere delle Jordan 4 So, die Questi pantaloni, just do it Just do it, quindi immagino della Nike No, Adidas Poi, questi occhiali che ti sei tolto Non siano occhiali cartiero o di qualche genere No Mercato di United Poi abbiamo questa felpa, immagino Dior a questo punto Tarocca, no? Tutto costa poco, la felpa costarà poco a sua volta No, 1000 euro Ma è tutto tarocco? Ma la felpa costa 1000 euro Businessman Non dimentichiamoci di queste cuffie Chi te l'ha dato queste cuffie? Troppe domande Ancora sto ragazzo, devo capirlo Dove fai poi? Vieni qua Grazie a tutti Grazie a tutti